Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, state, state, siete collegati, siete collegati in diretta dal bagno di casa mia. Ecco, un attimino, giusto una piccola panoramica del bagno, così direte, ma che cavolo, sì, che cazzo, sì, così, no? Nel senso, perché, perché, perché volevo coinvolgervi in un mio dramma psicologico, che ho scoperto da poco. Ecco, ecco, ve lo faccio subito vedere, cioè io non sapevo, non sapevo, ma mi sono accorto proprio stamattina, di fare il bidet con questo prodotto. Ragazzi, con questo prodotto, intimo menopausa, dermatologicamente, sì, dermoprotettivo ed emolliente atteno alle problematiche della menopausa, la menopausa.